Allenamento pomeridiano per gli allievi elite dell'Ossia Mare, i 96 di Maurizio Patanella che vediamo inquadrato in questo momento a colloquio con il direttore Carmelino. Si ritrovano appunto qui a Lancomarzio per la sessione pomeridiana di allenamento. Esercizi che vengono effettuati sotto lo sguardo attento del preparatore atletico Tavio Granato. Ancora fermo il campionato degli allievi elite, i ragazzi continuano ad intensificare l'allenamento e prepararsi per i prossimi appuntamenti ufficiali. Grazie a tutti. Grazie.